Avier Zanetti, celebre vicepresidente dell'Inter, ha condiviso le sue prospettive sul promettente futuro di Lautaro Martinez durante un evento legato al lancio del libro Un legame globale. Nella crescente attesa per l'attesissimo scontro contro la Juventus dopo la sosta per le nazionali, Zanetti ha espresso la sua soddisfazione per l'attuale prestazione dell'attaccante e leader della squadra. Iscriviti al canale e metti mi piace al video, così rimarrai aggiornato sulle ultime novità della squadra nerazzurra. Zanetti ha elogiato con effusione Lautaro, sottolineandone l'importanza per l'Inter e augurandogli il successo in una sfida cruciale come Juventus. Il vicepresidente ha sottolineato l'importanza dell'attaccante, considerandolo non solo una parte fondamentale della squadra, ma anche un capitano in ottima forma fisica, alimentando la speranza che la sua influenza possa essere decisiva nella sfida contro la Juventus. Parlando della carriera di Lautaro Martinez all'Inter, Zanetti ha fatto un'analogia con Mauro Icardi, esprimendo la sua felicità per il regalo del giovane attaccante ed esprimendo il desiderio che possa vivere una storia fantastica come quella vissuta da Zanetti durante la sua carriera con l'Inter. Riguardo alla questione del rinnovo contrattuale di Lautaro, Zanetti ha sottolineato la coesione e l'unità della squadra, sottolineando che tutti contribuiscono al bene dell'Inter, dentro e fuori dal campo. Ha citato l'intenzione di discutere il rinnovamento insieme con il punto di vista di tutte le persone coinvolte, ribadendo l'importanza di mantenere forti legami tra i membri del team. Affrontando lo scenario futuro dell'Inter sotto legida Suning, Zanetti ha riflettuto sui cambiamenti avvenuti nell'arco di un decennio, dalla gestione Moratti a oggi con Suning. Ha sottolineato la costante aspirazione a mantenere l'Inter competitiva e ad alto livello, sottolineando l'impegno di tutti i soggetti coinvolti e l'adattamento innovativo al contesto calcistico nel 2023. Zanetti ha sottolineato l'importanza di preservare l'essenza e l'identità dell'Inter durante questo processo evolutivo. Quanto all'imminente duello contro la Juventus, Zanetti pronosticava una partita ricca di emozioni, sottolineando la storica rivalità tra i due club. Ha sottolineato l'approccio coraggioso, rivelando la fiducia della squadra nella preparazione dello scontro. Nonostante la sfida lanciata dalla Juventus, Zanetti ha dichiarato che l'Inter continuerà a lavorare con determinazione per restare al vertice, sottolineando l'intenzione di servire la proprietà e mantenere l'eccellenza in campo. Ora vorremmo conoscere la tua opinione sulle dichiarazioni di Avier Zanetti. Come interpreta queste parole in relazione al futuro di Lautaro Martinez e all'approccio del club alla Juventus? Lascia la tua opinione nei commenti qui sotto.